domani alle 2 vedete la formazione ci penso stanotte domani decido l'allenatore se ne porta sempre i dubbi fino all'indomani perché è una cosa naturale non perché poi ho detto anche dei ritorni di Cagliazza Cagliazza non se n'è mai andata è stato sempre con noi ancora pure questa è una situazione da valutare abbiamo provato tutta la settimana con un po' tutti alle soluzioni possibili e immaginabili poi tra stasera e domani partoriamo Allora tornando allargando un po' il discorso Siamo pronti? Il Chiedi Flora le hai affrontate tutte in casa e non ha mai battuto con le squadre che stanno nella zona alta con Sondrone, Teramo e San Benedetto adesso c'è più che il turno dell'Atletico che pure via è nella zona alta sarà una volta buona per vincere in casa una partita di cosiddetto big match? Noi ovviamente facciamo sempre di tutto per poterle vincere mi fa piacere che ci siano dei mai perché i mai ovviamente nel calcio spesso vengono ribaltati nel senso io sono uno che crede tanto in quelli che sono i numeri e quindi per la legge dei grandi numeri uno crede sempre di poter fare qualcosa di diverso è sicuramente una partita difficile con una buona squadra con dei giocatori che abbiamo attenzionato minuziosamente dalla parte degli avversari ma quello che dico sempre ai miei giocatori è prima guardiamo in casa nostra quello che siamo noi quello che possiamo fare noi e poi di conseguenza ci confrontiamo con quello che è l'avversario però l'obiettivo principale è fare del nostro meglio inizialmente poi il resto lo valuteremo La settimana scorsa prima di Civitanova aveva detto che questa scuola non deve mai abbassare la concentrazione però nei primi 20 minuti a Civitanova la scuola è comprata a morire in campo domani l'approccio dovrà essere diverso? Ma non è stato secondo me una questione di approccio domenica a Civitanova è che per tutti quanti trovare una difficoltà nell'immediatezza come l'abbiamo trovata al primo minuto a Civitanova un po' ti scombussola quelli che sono i piani iniziali che hai fatto quindi io credo che invece siamo stati molto bravi a non andare oltre quello che abbiamo fatto in negativo soprattutto i 15-20 minuti iniziali e poi aver avuto quella reazione che è stata una reazione che deve essere non una reazione ma la nostra costanza cioè lavorare per arrivare da subito alla partita nella maniera migliore e cercare soprattutto di affrontarla col piglio giusto da subito questo sì, è ovvio che poi l'episodio ti può condizionare quello che è l'andamento nervoso anche non solo dei risultati della partita infatti ho detto inizialmente che troviamo una squadra forte con dei giocatori buoni ci sono molti, questa rosa che hanno calcato campionati di C proprio nel dettaglio siamo andati ci sono 5 giocatori che hanno fatto più di 20-30 partite in C quindi sicuramente non sono gli sprovveduti della situazione o comunque quella classica squadra che fa all'inizio boom e poi te la ritrovi nei bassi fondi del giorno di ritorno quindi va attenzionata con le maniere giuste e con le dovute misure e soprattutto, come ho detto prima cercare di guardare in casa nostra e fare quello che è del nostro meglio Venendo a noi, come è la squadra? Come stanno i ragazzi? Se sono tutti convocati? La squadra sta abbastanza bene ha lavorato come siamo abituati a lavorare durante la settimana ci sono solo due ragazzi che hanno avuto delle problematiche di infiammazione stanno fuori, sono Arioli e Di Matteo per il resto sono tutti convocabili a parte ovviamente VUITAI che non è ancora disponibile Siamo vicini al mese della riapertura del mercato c'è già un programma a livello di sforzamento di possibili arrivi c'è già un disegno? Io questo periodo se lo posso dire lo odio lo odio perché credo che sia il periodo più brutto per gli allenatori perché anche le voci le situazioni sono comunque momenti di distrazione per tutti e anche all'interno dello spogliatoio noi stiamo cercando insieme alla società insieme al direttore di essere più accorti possibile a fare meno riferimenti e meno situazioni possibili che riguardano poi i giocatori perché questo poi comporta all'interno distrazione e poi chi è coinvolto in quello che è il movimento di mercato sia in uscita che in entrata può essere deleterio sia durante le sedute sia durante l'allenamento e questo non deve accadere perché i ragazzi devono avere sempre mente sgombra e lavorare con un solo pensiero che è quello del chiedicalcio e noi ovviamente con la società e con il direttore ci confrontiamo costantemente verso quella direzione e si farà sicuramente di tutto per rendere ancora più competitiva e soprattutto più completa su quello che sono le scelte di tutti i ruoli di tutti i reparti ma Innof ci ha chiesto non parlo di nome ma in quali settori si si ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato e ovviamente mi sono trovato d'accordo con quello che è il mio pensiero anche con i dirigenti ma ha fatto qualcosina sui Ander siamo pochi perché alla fine per dire l'assenza di già di Matteo che voi dice ma non ha mai giocato però è nell'utilità della squadra è importante perché trovarsi con un 2006 solo in panchina è un rischio che noi non possiamo correre quindi avremo Cordoba e avremo sicuramente Giunchedi che è comunque un altro ragazzo Ander che nella squadra ha preso parte sin dall'inizio poi ovviamente l'abbiamo utilizzato di più anche con la Juniores lo porteremo sicuramente con noi per avere più soluzioni Importa il dubbio fino a domani ci abbiamo il dubbio importa se giocare con l'Ander se giocare con Mercorelli e ovviamente questo comporta anche dubbi all'interno perché sapete benissimo che c'è l'obbligo degli under e questo coinvolgerebbe ovviamente un over in più o in meno anche dentro nei dieci che giocano Dovresti sacrificare ultra della Quercia e Touré Della Quercia Touré stiamo valutando un po' tutte le soluzioni perché comunque l'under possibilmente lo possiamo schierare là in mezzo abbiamo il 2006 potremmo sacrificare l'attaccante abbiamo di Dio possiamo fare anche altre valutazioni diciamo che il nostro ruolo è complicato soprattutto anche nell'attenzionare poi e valutare soprattutto di fare le scelte più console in funzione dell'avversario che affronti e soprattutto mettere gli uomini giusti che in quel momento rendano farciano rendere al meglio l'equilibrio della squadra è ovvio è fondamentale credo uno cerca di mettere sempre la migliore formazione possibile nei suoi componenti ovviamente